belli cucciolotti avranno già più o meno 20 giorni stanno crescendo bellissimi la madre sta facendo un grandissimo lavoro come al solito io in questa occasione veramente l'ho vista veramente male la gatta non la faccio vedere si sta riprendendo non mi sono accorto dell'accesso che aveva vicino la guancia poi magari vedevo la faccia più come non ci facevo caso è stato un paio di giorni che la gatta non stava bene quasi cercava aiuto tremava un po ma poi si è ripresa poi io gli ho sempre cambiato le travesti mangiare nella mattina della trova praticamente con la guancia spappolata praticamente il l'accesso talmente che purtroppo loro si graffiano e quindi è stato un accesso di graffi sicuramente gli ha portato a lacerarsi praticamente metà si potrebbe dire che si è staccata la guancia diciamo almeno la parte della pelle profonda propista brutta ragazza saltava di qua di là e ho cominciato intervenire la gatta un po di quella selvaggia non è che sia tanto semplice prenderla però come si è abituata abbastanza bene e poi ho fatto un po di disinventazione piano piano e specialmente l'antibiotico quello che noi utilizziamo la messicina di un grammo l'ho diluito in 120 140 milielli di acqua macinato quindi adesso praticamente tritato si potrebbe dire a po in polvere e poi gli do 2,5 milielli con una sirinca tre volte al giorno e sono riuscito a recuperare la carta che sembrava persa in più sta veramente facendo la lionessa è veramente eccezionale ha fatto di tutto per salvare i cuccioli e se stessa è stato avendo una grande emozione vedere questa gatta che ogni giorno lottava come una dannata per i suoi cuccioli come te sono in forma e in salute legate sono veramente eccezionali per portare avanti i cuccioli adesso la gatta si sta riprendendo bene in salute forte piano piano si riformerà tutto ma vedo sempre migliorare quindi nel giro massimo di un mesetto la gatta starà al cento per cento sicuramente sarà così adesso questi cucciolotti due sono impegnati quello che volete tutti bellissimi in salute anche questo qua vedremo è bellissimo vediamo un po qua abbiamo un maschietto con un maschietto questo penso che sia un altro maschietto poi abbiamo qua abbiamo sicuramente questa quella femminuccia occhi croce e poi questa nero vediamo che c'è diciamo che al momento sembra la femminuccia questa bianco questa qua questa mesciata non è mesciata questi due colori arancione chiamano così e bianca una bellissima gattina e quindi abbiamo tre maschietti e una femminuccia ma due sono impegnati io penso che sia giusto dare anche una femminuccia con la persona che facciamo uno e uno e contattatemi due sono ancora disponibili fate voi fatemi sapere sono tutti bellissimi in salute e pronti per darvi giochi e divertimento belli beh trova la gatta la gatta evito di farla vedere perché ancora non si trovi in condizioni ottimali quindi la lascio nella sua privacy